l'allegato ha reso conto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3.555 della deputata Dorina Bianchi, concernente iniziative volte all'istituzione di un repertorio nazionale delle aziende che somministrano prodotti alimentari nelle scuole, negli ospedali e in altre strutture pubbliche. Il sottosegretario per la salute Vito De Filippo ha facoltà di rispondere. Presidente, onorevole interrogante, il Ministero della Salute è impegnato in una serie di interventi di miglioramento della qualità nella ristorazione scolastica e anche in quella ospedaliera ed assistenziale. La corretta gestione della ristorazione collettiva è ovviamente uno strumento prioritario per promuovere la salute ed educare ad una corretta alimentazione a partire dalla popolazione scolastica e anche dai soggetti ospedalizzati con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, i ragazzi, le famiglie, i docenti e gli operatori del settore. Le misure nazionali per promuovere un'alimentazione sana nelle scuole sono previste nelle linee di indirizzo nazionale sulla ristorazione scolastica. Questo documento nasce con l'intento di favorire sin dall'infanzia l'adozione di sane e corrette abitudini alimentari ed è rivolto a tutti gli operatori della scuola. Esso contiene indicazioni sull'organizzazione e la gestione del servizio di ristorazione, i ruoli e le responsabilità, gli aspetti nutrizionali e interculturali, i criteri per la definizione anche dei capitolati di appalto. Si pone l'attenzione sulla sicurezza degli alimenti e sul miglioramento della qualità nei vari aspetti, in particolare quello nutrizionale, con pasti adeguati ai fabbisogni per le diverse fasce di età. Attraverso alcuni orientamenti generali di educazione alimentare e nutrizionale si mettono in luce i contributi che la ristorazione scolastica può dare per la salute dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti. Per quanto riguarda le iniziative richiamate nell'interrogazione relativa al repertorio per le aziende dei prodotti alimentari che erogano servizi nelle scuole, le citate linee guida in indirizzo nazionale sulla ristorazione scolastica, nel capitolo 6, criteri e indicazioni per la definizione del capitolato, al punto C, prodotti alimentari, e il punto C riportano quanto segue, cito, i prodotti impiegati debbono essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria, ogni alimento che si intende impiegare nell'ampia gamma di scelta merceologica e commerciale va individuato in base alle caratteristiche tecnologiche, agli ingredienti, alla conservabilità, allo stato di conservazione, al convenzionamento e all'imballaggio e alla stessa filiera e alla sensorialità dello stesso prodotto. Il gestore del servizio, deve essere in grado di documentare la rispondenza ai requisiti richiesti attraverso schede tecniche e di prodotto, in grado di esplicitare tutte le caratteristiche. Conseguentemente, solo i prodotti definiti, accettati ed accreditati dal committente, in quando rispondenti ai requisiti, dovranno trovare impiego nel servizio. Ogni modifica, continua ancora il punto C, relativa ai prodotti indicati, dovrà essere preventivamente approvata dal committente, che ne verificherà la costanza delle caratteristiche prima di consentirne l'impiego. E inoltre, facoltà del committente richiedere un congruo numero di certificati e altre prove documentali in grado di comprovare la rispondenza del prodotto alla qualità dichiarato prevista dal contratto, sulla base di un piano predefinito, nonché l'obbligo di segnalare eventuali scostamenti rispetto a quando concordato specificamente, specificandone anche le cause. Il gestore, infine, del servizio, ha l'obbligo di approvvigionamento presso fornitori soluzionati in base a criteri oggettivi che ne garantiscono l'affidabilità, sia in termini di costanza del rapporto costo-qualità dei prodotti offerti, sia di capacità di far fronte agli impegni assunti. A tale proposito può essere utile richiedere una specifica relazione tecnica con sintetica descrizione del processo di produzione delle derrate ed una relazione descrittiva della organizzazione aziendale, con particolare riferimento alla catena distributiva delle forniture, all'acquisizione del prodotto, al mantenimento, alla distribuzione e alla consegna. Questa è un'ampia citazione delle linee guida del punto C. In questo modo si è preferito, nell'ambito anche delle autonomie regionali, permettere alle singole realtà locali di selezionare i propri fornitori, poiché sulla base delle peculiarità culturali, di quelle tradizionali e anche operative, la scelta possa essere fatta secondo le diverse esigenze anche dei territori. Ritengo inoltre utile segnalare che il Ministero della Salute ha dato incarico al Comando Carabiniere per la tutela della salute di effettuare ispezioni presso i presidi scolastici di Roma durante l'anno scolastico trascorso. Pertanto, dall'ottobre 2014 al gennaio 2015, i Carabinieri del NAS di Roma hanno compiuto 30 interventi, 4 in Asilinido e scuole per l'infanzia, 23 in istituti comprensivi e 3 in scuole secondarie e superiori, riscontrando irregolarità amministrative in quattro strutture per violazione della gestione della mensa scolastica e comunicando alle amministrazioni competenti le criticità rilevate. Lo stesso nucleo ha condotto nel periodo febbraio-marzo 2015 un monitoraggio di verifica dello stato degli immobili in cui si svolgono le attività scolastiche, rivolte anche alle condizioni igienico-sanitarie e alla corretta gestione delle mense scolastiche. In esito a tale ispezione sono state contestate cinque violazioni amministrative per carenze igieniche e mancata applicazione delle misure di autocontrollo alimentare presso le aree dedicate alla preparazione dei pasti, con applicazione di sanzioni pecuniarie dai 1.000 ai 2.000 euro nei confronti delle ditte di catering esterno che gli svolgevano questa attività. Nonostante le criticità riscontrate, si è comunque rilevata da questa indagine una situazione generale di accettabile condizione igienica degli ambienti e dei locali ad uso didattico, supportato da un'adeguata periodicità dell'esecuzione dei servizi di pulizia e di derattizzazione affidate ad aziende esterne con procedure di centralizzazione nei rispettivi municipi della Capitale. Grazie. Grazie. Sottosegretario De Filippo, la deputata Bianchi ha facoltà di dichiarare che si sia soddisfatta per la risposta alla sua internazio. Grazie, Presidente. Io mi ritengo e ringrazio il signor Sottosegretario per la risposta che ci ha dato tra l'altro in un arco di tempo anche breve alla interrogazione su quello che riguarda le abitudini alimentari degli italiani e in particolare quella dei bambini e sull'opportunità appunto di istituire un repertorio nazionale per le aziende di prodotti alimentari che erogano servizi di somministrazione sia nelle scuole sia negli altri edifici pubblici. Interrogazione che naturalmente nasce anche dalla sensibilità che si è sviluppata in questi anni, in questo anno di Expo di Milano e che vede il tema centrale dell'alimentazione, anche lo spreco alimentare e quindi anche l'obesità che significa salute per i nostri bambini. Noi in Italia siamo sicuramente ancora un Paese, anche se grazie anche a una campagna Occhio alla salute che è stata fatta dal Ministero della Sanità, siamo un Paese in cui l'ombosità infantile è diminuita ma comunque ci manteniamo ai primi posti nelle graduatorie internazionali. Io ringrazio il Sottosegretario per averci spiegato giustamente quanto è